Ciao! Vorresti imparare a scrivere un film? Girare su una pubblicità e scappare foto perfette? Allora scegli l'indirizzo Servizi Culturali dello Spettacolo, che tra vizie dei Y e un'arte da Vinci, le recente nauti di Magetta. Nel corso dei 5 anni ti comprerai delle prese video e audio e di fotografia. Scoprirai come scriverai una sceneggiatura o come allestire un servizio cinematografico. Inoltre sperimenterai anche diverse tecniche di formaggio, ma non solo. Tra le materie di indirizzo studierai anche la storia della fotografia, del cinema e della tv e alla fine del percorso di studi diventerai un vero specialista nell'audiovisivo. Parerai a parlare nel vuoto delle immagini e scoprirai come utilizzare un primo piano piuttosto che un campo luogo o un altro piuttosto che una panoramica. Inoltre serve anche utilizzare software dedicati alla post-produzione, come illustratori per le grafiche, Photoshop per il voto montaggio, premere quel portaggio video e afferrete la creazione di tante divertenti grafiche animate. Ho anche strumenti, come le esposive, come gli stabiliti, gli screen screen e i cartelli. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Crediti che hai ho parlato tutto? No! Perché se non si potrà essere in spettacolo non riesci mai. Infatti potrai mettere in pratica tutto ciò che di un anno in anno andrà imparato collaborando in alternanza su un lavoro per telecomia Infatti realizzerai numerosi servizi videogiornalistici e ricordati che potranno essere persino visti in tv Andremo in visita presso gli studi della media e sette elastiche della RAI Visiteremo il viso del cinema a Torino e ci tufferemo un giro virtuale presso il mix Per non parlare poi dei mezzi di istruzione e sempre mirati al vostro corso di studi Ciricità a Roma da 15 anni e costa azzurra possono essere dei miei ideali E inoltre attività interdisciplinari ed extrascolastiche pomeridiane Ad esempio progetti con certificazioni informatiche e linguistiche, corsi di teatro, progetti sportivi e tanto altro E dopo il diploma potrai scegliere se accedere direttamente al mondo del lavoro o se continuare agli studi universitari Ora non manca che iscriverti, scopri di più su enaudimagenta.edu.it E ci vediamo a Renaudi! Grazie